Alcuni di voi mi hanno chiesto di approfondire l'argomento della scaletta, come si usa la scaletta all'interno della programmazione, della progettazione del proprio romanzo, della propria storia, può essere anche un racconto, e poi anche di affrontare l'argomento di quando ci si blocca nella costruzione della scaletta. Allora lo facciamo subito dopo la sigla. Innanzitutto vi ricordo una cosa, che sul sito alberodemistero.com c'è anche compreso un blog all'interno del quale escono degli articoli relativi a vari argomenti, tra i quali per l'appunto la scrittura, ed è già uscito un primo articolo relativo all'arte della scaletta nella scrittura creativa, all'interno del quale io do alcuni suggerimenti su come affrontare per l'appunto la costruzione della scaletta all'interno del romanzo. Vi metto il link qui in calce a questo video, quindi io vi suggerisco di andarlo a visionare, insomma a leggere, perché questo video in realtà si unisce a quell'articolo lì, insomma è un ulteriore approfondimento. La prossima settimana, inoltre, uscirà anche una ulteriore lezione all'interno del corso il mistero della scrittura, ma di questo vi parlerò successivamente. Quindi oggi parliamo di questo strumento fondamentale nella scrittura narrativa, per l'appunto la scaletta. C'è chi la usa e c'è chi non la usa. Non è ovviamente obbligatorio utilizzarla, però di sicuro può aiutare alcuni aspetti della stesura del vostro romanzo, della vostra storia, della costruzione della vostra storia. Allora, esploriamo insieme come utilizzarla in maniera efficace, evitando però di impantanarci e mantenendo la creatività al massimo, che deve essere sempre l'obiettivo principale. Non esiste cosa più importante dell'apertura alla creatività quando voi scrivete la vostra storia. Questo video vi dico già che è suddiviso in due parti, perché in una prima parte affronteremo alcuni principi relativi al rapporto, principi generali, relativi al rapporto che c'è tra la scaletta e il romanzo o la storia che stai scrivendo. Nella seconda parte invece ci soffermeremo in modo particolare su alcuni consigli pratici utili se ti trovi in difficoltà mentre stai scrivendo la tua scaletta narrativa, che era questo l'argomento specifico che mi era stato richiesto. Quindi, incominciamo subito con il primo consiglio generale della prima parte. Allora, la scaletta è innanzitutto un'alleata, non una nemica. È essenziale capire che la scaletta non è un limite alla tua immaginazione, ma piuttosto deve essere un trampolino di lancio. Questo è il modo corretto di concepirla. È uno strumento che ti aiuta ad organizzare i tuoi pensieri, a dare struttura solida alla tua storia, senza soffocare però la creatività. Quindi, nel momento in cui tu pensi che la scaletta stia diventando qualche cosa che ti costringe, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Tieni sempre presente questo principio. Il secondo consiglio che ti do è di semplificare per non complicare. Cosa vuol dire? Un errore comune che si fa quando si scrive una scaletta è sempre quello di complicare, sempre, molto spesso, quello di complicare eccessivamente la scaletta. Invece dovresti cercare di mantenerla semplice, efficace. Una scaletta è infatti troppo dettagliata, può diventare un ostacolo piuttosto che un aiuto. È importante allora trovare il giusto equilibrio tra dettaglio e flessibilità. Certo, flessibilità, ma allora che cosa significa flessibilità? La flessibilità innanzitutto è un aspetto fondamentale. Una scaletta infatti deve essere un documento vivo, cioè deve essere qualche cosa che va adattato, che va modificato a seconda delle esigenze. Non pensare mai che la scaletta sia qualche cosa di fisso e determinato. Va adattata man mano che la storia si sviluppa e si modifica. Quindi questo approccio ti permette di accogliere nuove idee e intuizioni che emergono durante il processo di scrittura. Perché ricordati che un'altra cosa che tu devi fare è quella di essere sempre, sempre aperto alle intuizioni che puoi avere durante la scrittura. Non devi cassarle mai in nessun caso. D'accordo? Allora, vediamo un altro consiglio che io trovo molto importante, che è quello di concentrarsi sulle pietre miliari della storia. Cosa vuol dire? Che quando tu scrivi la tua scaletta, questo soprattutto a livello generale della scaletta dell'intero romanzo, devi ovviamente tenere conto di questi aspetti che sono fondamentali, che sono i punti principali attraverso i quali si dipana la tua storia. Cioè l'inizio, i punti di svolta principali, il climax, che fa seguito al conflitto più importante di tutta la storia, che di solito è verso la fine del terzo o quarto della storia, e poi la conclusione ovviamente. Questi sono i pilastri che tu devi avere sempre presente quando costruisci la tua trama e quindi quando la scaletti, permettendo ovviamente che tra l'uno e l'altro ci sia spazio per la creatività. Quindi quando hai la tua trama pronta per essere scalettata, la scaletta non deve essere mai troppo approfondita, troppo specifica. Devi tenere conto di queste pietre miliari della tua storia, ma soprattutto devi creare la scaletta in maniera tale da lasciare spazio alla estemporaneità anche della scrittura, d'accordo? Alla tua creatività. Ma questo per quale motivo? Soprattutto perché in realtà la scaletta è una guida, non è una legge, non è una regola ferrea da seguire, come ti dicevo all'inizio. Se senti che la storia sta prendendo una direzione diversa da quella prevista, non avere paura di deviare da questo percorso, anzi dal percorso originario, cioè non avere paura di lasciarti guidare da questa intuizione, da questa novità, da questo cambiamento. La storia migliore infatti è quella che fluisce naturalmente, non quella forzata all'interno di schemi eccessivamente rigidi. E infine vediamo l'ultimo consiglio generale di questa prima parte del video, e cioè ci deve essere equilibrio tra struttura e creatività. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi tenere sempre conto di questo dato fondamentale, essenziale. La scaletta fornisce la struttura della storia, però tu devi lasciare sempre che sia la tua creatività, lo ripeto per la terza volta, a riempire gli spazi, a dar vita ai personaggi, a tessere le trame. Ovviamente questa cosa non può essere fatta da zero. In che senso? Nel senso che la scaletta nasce da una elaborazione precedente della tua storia e della struttura della tua trama, del tuo romanzo. Tutto questo io te l'ho infatti spiegato all'interno di una lezione specifica del mistero della scrittura, e cioè all'interno della terza parte del corso, il mistero della scrittura scrivi. Come vedi, i moduli 5 e 6 sono dedicati in modo particolare a sviluppare la storia, portare a compimento il percorso attraverso le varie stesure e puntare l'attenzione affinché la tua narrazione sia coerente, valida ed efficace. Inoltre ci sono importanti strumenti di sviluppo stilistico. In questa parte del corso, per l'appunto chiamata scrivi, che costa 300 euro, ma che te lo ricordo funziona come un abbonamento, cioè tu lo paghi soltanto una volta, ma poi tutte le aggiunte ulteriori successive saranno sempre gratuite per te, contiene al momento ben 56 lezioni per oltre 10 ore di contenuti video. Allora, se tu guardi nel modulo 5, che è il primo dei due moduli di cui è composto il mistero della scrittura scrivi, nel modulo 5 ad un certo punto c'è, ci sono queste lezioni, trama, canovaccio e scaletta, che ti spiega in che modo si inserisce la scaletta all'interno della suddivisione complessiva della progettazione del tuo romanzo. Poi c'è una lezione dedicata all'unità narrativa, che è un altro concetto fondamentale che io utilizzo in maniera molto diffusa e per me, anzi direi che forse è il concetto narrativo fondamentale all'interno della struttura di un romanzo o di un racconto. Ecco, l'unità narrativa che è fondamentale per capire poi in che modo vadano sviluppate le scalette delle singole scene, per esempio. E poi c'è la lezione successiva che è la definizione della scaletta, per l'appunto dove ti spiego per filo e per segno come costruire la scaletta. Oltretutto però poi ci sono altre lezioni, per esempio la divisione in scene, sequenze e atti, oppure la costruzione delle scene, con anche il materiale didattico focus sulla costruzione di una scena e poi l'esercizio che ti invita a creare una scena, che sono tutte centrate sulla costruzione della scena attraverso la scaletta. Quindi sono diverse lezioni del corso Il mistero della scrittura scrivi che sono dedicate esattamente a questo argomento. Dalla prossima settimana, come ti dicevo, si unirà un'ulteriore lezione di approfondimento all'interno della quale ti spiegherò alcune strategie specifiche per costruire proprio la scaletta in maniera differente da come si è soliti fare. Quindi spero che questo mio consiglio di acquistare questa terza parte del corso, che tu puoi comprare in maniera isolata, così non è che devi comprare anche le altre due parti del corso, quindi puoi spendere semplicemente 300 euro avendo per l'appunto un abbonamento continuo ai contenuti di questo corso. Spero che possa effettivamente essere di tua utilità. Ma adesso torniamo allora al nostro argomento in maniera più diretta affrontando la seconda parte del video, con i consigli pratici, utili, nel caso in cui tu ti trovi in difficoltà mentre stai scrivendo la tua scaletta narrativa. Il primo consiglio che ti posso dare è quello di fare una pausa. A volte allontanarsi un po' dal lavoro che stai facendo può aiutare a vedere le cose in maniera completamente diverso. Puoi sviluppare una prospettiva molto diversa che ti aiuti a sbloccare la situazione. Allora prenditi una breve pausa se ti trovi in questa fase di problema, di difficoltà. Distogli la mente, pensa proprio a qualcos'altro e poi torna alla tua scaletta con occhi freschi. Altrimenti un altro consiglio che ti posso dare è quello di rivedere i tuoi obiettivi. Cosa vuol dire? Se la tua scaletta si impantana o non riesci a svilupparla, prova a chiederti cosa vuoi veramente raccontare con la tua storia. Qual è il messaggio o il tema principale della storia? Può essere che tu non abbia sviluppato questi aspetti a livello proprio di riflessione sul romanzo che stai scrivendo. Quindi rivedere i tuoi obiettivi allora può aiutarti a riportare la tua attenzione proprio su quegli aspetti che sono i più importanti della narrazione. Quindi se non hai studiato approfonditamente tutto quello che ti consigliavo circa il tema principale del romanzo che è un argomento al centro del primo modulo della seconda parte del corso Ministero della scrittura immagina, io ti consiglio di andare a guardare anche il minicorso eventualmente che ti propongo ad un prezzo ridotto. Ma allora vediamo il consiglio successivo che è quello di concentrarti sui tuoi personaggi. Se sei bloccato sulla trama, sulla scaletta, allora potrebbe essere utile concentrarsi sui personaggi. Questo è legato in realtà anche al consiglio precedente, cioè di solito quando noi non riusciamo a sviluppare una scaletta è perché non abbiamo ben sviluppato alcuni aspetti relativi o a ciò di cui parla il romanzo o al modo in cui lo vogliamo affrontare oppure al modo in cui abbiamo sviluppato i nostri protagonisti principali perché tutta la storia, ti ricordo, nasce dallo sviluppo dei personaggi. Quindi pensa come i personaggi principali reagirebbero nelle varie situazioni o come i loro obiettivi e desideri potrebbero guidare la storia. Ma lo ripeto, se anche in questo modo non riesci a cavarne un ragno dal buco vuol dire che molto probabilmente i tuoi personaggi non sono ben sviluppati e allora dovrai fare un lavoro specifico su di loro. D'accordo? Il consiglio successivo poi è quello di semplificare la struttura. Questo si riallaccia un po' al discorso della scaletta troppo precisa, troppo specifica. Se la tua scaletta è diventata troppo complessa prova a semplificarla. Concentrati sugli eventi chiave, sul flusso generale della storia senza preoccuparti troppo dei dettagli minuti. Prova magari a sfoltire la tua scaletta di tutti quegli elementi che non sono veramente fondamentali in modo da lasciare maggiormente lo sviluppo delle scene o dei brani alla tua creatività. Quindi nella scaletta tu metti soltanto proprio gli elementi essenziali. D'accordo? Secondo le indicazioni che ti davo all'interno delle lezioni. Il consiglio successivo chiedi dei feedback. Attenzione qui. A volte una seconda opinione può fare la differenza. Condividi la tua scaletta con un amico fidato, un mentore o un gruppo di scrittura per avere feedback o suggerimenti. Ma attenzione, devi fare molta attenzione, devi stare molto attenta o molto attento a chi ti rivolgi perché ovviamente deve trattarsi di una persona competente. Quello che io ti invito a fare è di scrivere a me. Se hai dei dubbi sulla tua scaletta scrivimi che un quarto d'ora io te lo do. Siamo in una comunità con Albero del Mistero quindi io ti do dei consigli con il desiderio, con il proposito che tu li metta in pratica che possano aiutarti a migliorare il tuo lavoro di scrittrice o di scrittore. Quindi sentiti libera, sentiti libero di scrivermi per chiedere un consiglio. Non è che ti chiedo di pagarmi per avere un consiglio. Quindi vai senza problemi che siamo qui per aiutarci reciprocamente. D'accordo? Allora vediamo il consiglio successivo che è quello di scrivere scene sperimentali. Infatti un modo interessante per provare a sbloccare la situazione è proprio quello di prendere alcune scene chiave, momenti importanti della tua storia, anche se non sei sicuro di dove poi si inseriscano all'interno della scaletta generale magari. Potrebbero essere anche delle scene estemporanee che ti sono venute in mente al di fuori della scaletta prevista e prova a svilupparle. Perché questo può aiutarti in realtà a comprendere meglio la tua storia e a trovare anche nuove direzioni verso le quali mandarla nel momento in cui la tua scaletta sia impantanata o in cui tu ti sei impantanata o impantanato nella tua scaletta. D'accordo? Quindi prova anche a lavorare un po' al di fuori degli schemi che avevi previsto perché questo ti aiuterà sicuramente ad ottenere un punto di vista differente. Collegato a questo è un po' il discorso del tornare al primo punto utile all'interno dello sviluppo della tua scaletta. Cioè se ti senti completamente disorientata disorientato ormai perso potrebbe essere utile tornare al punto in cui la tua storia aveva ancora senso per te e riprendere da lì eliminando o modificando ciò che ti ha fatto deviare. D'accordo? Quindi si tratta anche in questo caso di semplificare la scaletta però in che modo? ritornando al punto subito precedente al momento in cui ti sei resa conto, ti sei reso conto che hai incominciato a deviare dalla storia complicandoti la vita. Ok? Allora da quel punto in poi potresti o riprovare a scrivere la scaletta oppure sfrondare tutte le parti successive della tua scaletta degli elementi diciamo degli elementi eccessivamente o eccessivamente precisi che quindi ti impediscono di pensare in maniera sufficientemente creativa la tua storia oppure di arricchire al contrario la tua scaletta di maggior precisione nel caso in cui tu abbia l'impressione di essere uscita dal seminato. D'accordo? Vediamo allora l'ultimo consiglio che ti do che è quello di accettare il cambiamento. Allora questo è un consiglio che ovviamente noi dobbiamo tenere sempre presente per quale motivo? Perché a volte una storia evolve in modi che noi non ci possiamo immaginare che non avevamo previsto no? Quindi devi essere aperto a modificare la tua scaletta in base a dove la storia sta veramente andando. Cioè se tu senti che i tuoi protagonisti o la tua narrazione sta prendendo una deviazione che dentro di te risuona in maniera molto interessante non cassarla perché hai una scaletta da seguire ma lo ripeto ancora una volta accetta questo cambiamento accetta di dover modificare eventualmente anche tutta la scaletta. Questo quando si scrive un romanzo in maniera seria che gli succede più di una volta perché qui forse si inserisce il discorso della scaletta come castrante la creatività. Noi non dobbiamo lasciarci castrare da una scaletta o da una programmazione eccessiva del romanzo. Per quale motivo? Perché dobbiamo sempre ricordarci che il romanzo è un'opera d'arte e quindi segue un'ispirazione che non è mai del tutto racchiudibile all'interno di uno schema che noi sviluppiamo. Quindi dobbiamo essere sempre aperti al cambiamento perché quando noi sentiamo che c'è un cambiamento in arrivo che ci fa vibrare interiormente allora vuol dire che lì c'è tutto da cambiare. Quindi tu devi fidarti di questo cambiamento, devi mettere da parte quello che avevi previsto e seguire il flusso della tua immaginazione perché le grandi opere nascono in questo modo, non nascono certo, prevedendo tutto in anticipo come però è ormai funzionale fare perché si vuole vendere, perché si vuole scrivere qualche cosa che appartiene al mercato in realtà. Ma io quello che ti invito a fare è sempre di non scrivere per il mercato ma scrivi perché stai dando voce a qualche cosa che senti arrivare da lontano, che è dentro di te ma che è come se arrivasse da lontano, devi dar spazio all'ispirazione, d'accordo? Allora quindi come possiamo concludere questo video? Non troppo lungo ma spero utile. La scaletta è un processo che a volte richiede tempo e pazienza e questo lo sappiamo bene. È una di quelle parti che tu non puoi risolvere in maniera troppo frettolosa perché se hai deciso di utilizzare questo strumento devi anche usarlo al meglio, d'accordo? Quindi devi dedicare tutto il tempo che ritieni necessario. Però non scoraggiarti se incontri degli ostacoli perché gli ostacoli sono sempre parte integrante del viaggio della scrittura. Anzi, la scrittura è un mistero, come anche ho chiamato il corso, il mistero della scrittura, proprio perché ad ogni passo conserva sempre delle sorprese che tu non potevi immaginare. Ma allora il nostro scopo come scrittrici, come scrittori, non è quello di mettere a tacere le sorprese perché il nostro viaggio nella scrittura di un romanzo sia il più lineare possibile. No, il percorso della scrittura è veramente pieno di curve, pieno di buche, di montagne da salire, da scollinare. È pieno di ostacoli che però vanno affrontati uno per uno. La scaletta dovrebbe aiutarti in teoria a affrontare questi ostacoli, ma nel momento in cui ti impedisce di affrontarli devi eliminare la scaletta oppure modificarla profondamente. D'accordo? Quindi la scaletta è uno strumento potente soltanto se viene usato correttamente. Ti aiuta a mantenere la storia concentrata, coerente sicuramente, ma non deve diventare mai un vincolo. Te lo ripeto ancora. Usala come un faro che ti lasci guidare all'interno di una narrazione che tu hai già programmato per i suoi punti nodali, per le sue pietre miliari, come dicevamo, ma lasciati sempre la libertà di esplorare i nuovi orizzonti creativi che ti si affacciano al cuore, d'accordo? E poi alla mente. Spero che questo video sia stato di tua utilità. Se ti è piaciuto metti il mi piace e se sei arrivato fin qui e ancora non ti sei iscritto al canale, io ti chiedo di farlo subito. A te non costa nulla e a me in realtà permetti di offrirti dei contenuti sempre più ricchi e per te significativi. Ciao, alla prossima!